Una confisca di beni da circa 3 milioni di euro eseguita dalla Direzione Investigativa Antimafia. Il provvedimento di confisca definitiva dei beni emessa dal Tribunale di Caltanissetta su proposta del Direttore dell'ADIA riguarda un imprenditore della provincia di Caltanissetta. La confisca definitiva, che segue la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, ha ad oggetto una concessionaria d'auto, un negozio di abbigliamento, entrambi a Caltanissetta, una partecipazione societaria, tre fabbricati, tra cui una lussuosa villa con piscina, cinque terreni e più rapporti bancari per un valore stimato pari appunto a circa 3 milioni di euro. L'imprenditore, che opera nel settore del commercio di auto anche di lusso, nella vendita di capi di abbigliamento ed accessori, secondo l'ADIA, sarebbe un soggetto di particolare spessore criminale, visto il coinvolgimento dell'uomo e reati di usura e traffico e cessione di sostanze stupefacenti. Le indagini condotte dall'ADIA hanno messo al centro l'anomalo incremento di ricchezza dell'imprenditore rispetto alla posizione reddituale dichiarata, risultata dalle indagini sproporzionata, visto il consistente patrimonio finanziario accumulato dall'imprenditore negli ultimi decenni.